Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Sollevando i Pistoni Nooo, sei G, te lo ti conviene fare queste battite, eh Sono dei doppi sensi queste ragazze, non so male Siamo qui che c'è la bianca sui pistoni e Jarvis sui pistoni, noi siamo qui a sollevare i pistoni Se anche voi, se non fosse che sollevare i pistoni Se non fosse che è Minecraft io mi preoccuperei seriamente E aspetta, qualcuno mi sollevi che voglio andare lassù Ah, lo sollevi per favore, qualcuno mi sollevi A me devi venire di mattina No, no, state bene, non voglio salire là Vai, 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 ti alzo io, va Guardate, guardate dove sono Chi arriverà qua? No, ragazzi, no, ragazzi, cioè, allora, no, temi tutti, Valerio ne è consapevole, sono, ma vaffa che mi mantenete un altro, fate fare il gioco facile, grazie Benvenuti in questo episodio di Nabi sui pistoni Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho Biancaneve, sette pistoni Beh, ragazzi, sta iniziando Eh, tre, due, uno Quanto con la ci abbatta? Chi sarà il primo? Io che non c'ho... No, vai Io che parto senza zappa Primo sangue Sì Sì, vabbè, ma io che parto senza zappa? No, sono a zero Senza zappa E dove l'hai messa? Dovina Dai No, 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 non va bene, non va bene Non mi sto... Oh, ma che cazzo Non ci sto accadendo niente, ok No, chi è che sclera? Chi è che sclera? Ah, ma perché dove... Dove c'è sto? Dai Dai No, eh Non posso Sì Questo è un ottimo posto No, mi ha ucciso Ah, ok, grazie per avermi ucciso Di certo non ho io No, no, io cosa faccio qui ora? Ti guardo Dai Ti osservo Ti osservo Usiamo la tecnica quella degli Hunger Games Eh, vabbè, poi voi... Gioco facile, cioè Ti metti dietro la parete e poi esci e spari Tecnica da Hunger Games Bam, doppia Battista, girati No Allora, ragazzi, facciamo vincere sempre Battista, però non vale C'è Valerio che subisce la mia ira Che succede qua? Premi per uscire Dai Sono bloccati in questo posto Ok Che è successo? Eh, vabbè, questi copi vengono in chiopettare da dietro Aczione Battista, ancora Bobbiro muore Ma sono bloccato Chillone assurdo Chillone assurdo Mi piace per questo chillone per Bobbiro Ragazzi Ragazzi Mi sono bugato nell'area di attesa Mi sono bugato nell'area di attesa, non vale E vi sto uccidendo da qua Ok Bobbiro Bobbiro Ti avrò Ti avrò Ti avrò Ti avrò Perché solo mi succedono queste cose? No Eh, signori Il vincitore Bella Bobbiro Io l'ho sempre detto E all'ultimo round Scusate ma il re di Bobbiro E ovviamente vinco all'inizio Lala Aspio, vieni, devo stare Oris Oh, ha trovato il suo idolo, dategli un attimo C'è il suo momento di gloria Sì, è il suo momento di silenzio Che è la sua No, si chiama L.L. Oris Oris Madonna Lo sai che ti ho nel film? Oris Sì, zio Sei un grande sei Ti stimo Bella Non sei andato È spagnolo questo calciatore C'è ancora Madonna Che fa? Che ha fatto più Hunger Games di voi? Oh ragazzi, ragazzi, ragazzi Benvenuti sulla Blue Fire TV Quanti siamo oggi? Non lo so quanti siamo Però Presentatevi Siamo troppi Uno alla volta Presentiamoci Silenzio Oh, sì Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Eh, sì Ragazzi Sostanzialmente Questo mini-games Dovete uccidere la gente Colpendo tutti Con i fuochi d'artificio Interessante Ah, ho capito adesso No Infatti sono morto Sono morto Ok Cioè, ti sfungi Valerio Valerio, sì Ciao Valerio Valerio Sì Sto volando Sto cadendo Sto morendo Sto morendo Allora, allora Siamo in un mini-gioco Di cui io non ho Non so Siamo in un mini-gioco, ragazzi Di fatto Di fatto Il fatto è che abbiamo perso Cioè Era un po' Ragazzi Ragazzi Spirò io Faccio questo gioco Praticamente Dovete sparare con delle zappe Le zappe che non ho mai sentito E' bellissimo Sì, perché le zappe Le zappe sparano Ragazzi Ragazzi Se dovete Avete delle zappe Non sapete cosa fare Sì, ma mi spiegate L'orizio Siamo in un mini-discuzione Di massa Cioè Spera, un momento di silenzio Perché è entrato Lloris Cioè Sei in squadra Con noi Con me Con me Tutto l'urlo Ma tanto è scarso Lloris Allora Quanto mi giochiamo Che non c'è nessuno Più scarso Cioè Appena è cominciato Sono morto Allora Sono tutti qua Ragazzi Sto morendo Yeah Dicca Dicca No, eravate tutti nel mio schermo Volevo salutare Volevo Volevo Eh, bobby Eh, ci inizia la vita Dicca mi Dicca mi Ah, mi chiamo Ah, ma ste, ho capito Tipo quasi Si sparano Tipo le palle di neve Non ho troppo del genere No Sì, proprio le palle di neve Le palle di neve Esatto Solo che esplodono Queste palle di neve Esatto Ah Pallero Volta di arte Vai, babbini Giocate tutti a palle di neve Sì, boom, boom Alla bianca Chi è la bianca? È con noi Yes Ah, ma tu sei Valerio Parla Pikachu Parla Pikachu Parla Pikachu, dai Parla Pikachu Ragazzi, Pikachu è in chiamata Manca solo qualcuno che fa loquendo Cioè È iniziata Cazzo, c'è una zappa C'è una zappa Oh, fischio Mario, oh Assalto dalla bianca Oh, che cazzo è Ma voi mazzoluti Che è successo? Io mi sono ritrovato in un blocco di vetro Ma dai Oddio Sì Là c'è una marea di gente Oddio Io sono due Io sono un miliardo Chi sono un blocco Io sì Sono a zero Chi è sto camperando come un Trotterello impufalito Wow E vado a quattro No, no Tipo 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 è come Fatso Adesso Gio Sì Bam Chilla Chillone assurdo Con Valerio Tipo vinco Tipo vinco Vuoi vuoi fare che fa una doppia Ho fatto una tripla Attenzione No, le spalle Io no, ci sono Ah, ma è tipo un Contro tutti Esatto Ma c'è uno troppo forte Chi ha fatto 12 punti Io Sei un mito Sei un pro Sei un nerd Non lo so Oh, le ho rissumore Così alla raggobbizzazione Oh, è un grande Sono Vinto, ho vinto Cosa ho fatto? Ho recuperato Siamo 10 Oh Vaffan Ma sei un pro Battista Battista Bufa Yeah Sei un pro Grazie Vai Ma lei è un pro Per mano mia Attenzione ancora Vediamo Si accinge Battista Battista No Pro Quattordici Quattordici Ancora Sì undici Io ne ho fatti i dritti Io il siedo Non riesco Eeeh Quattivi No Ho fatto uno attimo No È per uno Vincere Vincere Primo round One kill One shot Che sono morto Eh, siamo morti tutti E' finito Quando finisce Si torna allo spawn Scattati a dirt poco È bella col secondo round Oh, mi ha fatto una quadro Andiamo con noi Surreal power Che sicuramente è un fake Però festeggiamo comunque Senso Offesa al vero surreal Fake surreale Dai, il vero surreal No, è un mito Oh, inculiamocelo tutti quanti Vediamo cosa fa Dove siete? Vi sto aspettando Aspettate Ah, ragazzi Vi serve le per tutti Premium, SP Che volete? Che cavolete? Premium, SP Infatti private non vediamo Il video Monditi, mongoloiti Q Anche chi ha le scarpe arancioni Può entrare Anche per gli orissi Salutiamo gentilmente la hacker Che mi interrotto Lini Sei uno youtuber Fermi, fermi un attimo Saluto gli orissi Che ororo Oh, oh Oh Ciao Scappi Allo scappi Ciao fake Sei un gran fake Ragazzi Ragazzi Seguitemi Seguitelo Slender Fermo Se sono le costura Seguitelo Slender Seguiamolo In regola dovremmo scappare dallo Slender Allora scappate Dicare Soporre Corri Corri Non dovevo fare un altro Passi Dove sono le pagine Dove sono le pagine Dove sono le pagine Se non mi parlare Ragazzi Ragazzi Non mi parlare Di pagine Che oggi A registrare Slender Io mi mancavo Una pagina Mi soppresa Certi spaventi Per corpo Di sto Tipo pallido Quanto Mi sento Terramente Non è pallido Cioè Non c'ha proprio La faccia una cosa diversa essi quella è il primo di testa di poterlo calentini gestione di abuso di trove per l'esercizio è così facciamo un altro certo il fatto alla stragrande tipo qualcos'altro ma il buco scusa scusa ci se tu sei un professionista e noi no invece scusa se questa è la prima partita che non sapevo giocare o dai a te no mi incuriosisce questo blocco prossimamente bloc vincere io vincere io ora ragazzi vinco di nuovo io andiamo a fare skyblock ok ragazzi tutti contro di lui ahahah tutti contro di lui circondatelo ma circondatelo in un po' di piste una gamba oh raga facciamo un cerchio facciamo un cerchio venite qua facciamo un cerchio un cerchio l'unico modo se lo riusciamo a circondare l'unico modo che è di fotterci è usare la fly no è di sconnettersi dal server che culo non c'è nessuno qui perchè non c'è nessuno qui tripla è stupendo tripla ragazzi tripla vai no vi ha falleggato slender via di qua slender slender cosa? slender via di qua vengo a prenderti vai e non c'è nessuno cattivo 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 ah ragazzi non mi rompete le scatole perchè gioco con la con la short perchè sono lo slender si e ci deve essere la nebbia vabbè ma noi dovremmo avere la nebbia perchè stiamo giocando con lo slender la mia zappa l'arma no ragazzi ma andiamo a fare blocco dai andate vorrò vedervi perchè sto in un cazzo di blocco di vetro il poi di te che gioco a spararmi da solo a zapparmi si piede il gioco ma cos'è? certavante arriva la nazzella no 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 raga propongo una cosa per dopo andiamo a fare un blocco punto siamo pari no passi primo dai a doppia dai uo no no se no 12 12 come siete stati fortunati madonna ma dai lui è esagerato davvero uo lui è esagerato io sono morto si no no guarda no lol lol 14 ne manca uno mi manca uno oh dai uno uno no 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 ho vinto ho vinto chi ha vinto non so ma quanto cazzo ne ho pazzati dai ragazzi ora venite qua un pazzo omicida vincite tutti vengono a inchinarti tutti quanti eh uda 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 pittorio che non ho detto niente erano tutti i punti dai vincono sempre più nerd ragazzi sono entrato ma sono da solo eh sei contento dove siete ragazzi oi io sono qua oh dai voglio la rivincita dai il final round ci siete quale final round dobbiamo fare un block count sai dove te lo puoi mettere il block count ma dove ti fai un block count ti fanno tre round comunque comunque alla bianca valerio mi 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 alla guarda mi 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 ok sei dimmi qualcosa di interessante vai via vai via jarvis dimmi qualcosa ala 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 non ti voltare non ti voltare dimmi qualcosa qualcosa ok qualcosa potevi dire qualcosa di più burbo ma eh ok qualcuno vuole parlare ora io voglio raccontare una storia sono tutti qui a girare la testa io voglio raccontare una storia no le tue storie fanno schifo un altro eh no no dai voglio sentire vabbè jarvis poi un po' il garaccio ma ne avevo sentita ne avevo sentita un'altra bruttissima di quelle freddure vabbè devo vincere eh occhio per occhio meglio una gallina oggi che un uovo domani disse il gallo giusto giusto meglio una gallina oh raga voglio sentire una cosa ditemi no allora la l'uovo l'unico è l'unica forma che pure essendo uscita da un culo ha una forma perfetta qualcuno stò facendo da un'altra la marina da un'altra da un'altra di qualcosa stai iniziando stai iniziando stai iniziando ma mamma si ti dico uno e due papirovi mi è ammarsa in un modo brutale poi hai subito papirov alla rivista ma perché sei no, ma zio, ma zio, devi stare, ragazzi, devi stare, devi stare, devi stare, devi stare, ma perché io ho sempre spavano dentro a stare, questa cosa di nero qua, sempre nel vetro incastato, quello, e tre round, subito di maxman ultimo, non si sta qua, dai, sono sette, ma ho fatto tipo, ammati, ma allora, ma io l'ho, ragazzi, ho fatto un colpo e ucciso sette persone, bam, ragazzi, bam, ragazzi, vediamo il recupero, il recupero, recupera ancora, valerio bro, valerio bro, ancora, no, no, max, no, no, va, yeah, chi spalla qua dentro, dai, non vale, yeah, non vale così, bam, attenzione, vediamo la rivincita, ancora, ancora di maxman 1.9, ma, prima, mané, ma tu, gua, raffa, ma, ma, che, ma, che, chi è madonna, va, attenzione, valeri baggata, padua, battista, bobo, ma dottore si, schifo, ba, sa, Princeton, bobo, voi, vado, mi mani, bobo, vado, sta, bomber, che, tanto, aspetto, valerio, chi mi, mi, mi mi, mi, da una kill, è un donna grande, batista, infatti, io prendo il cenne, batista, che voi, abbandosa, che, maxman, attenzione, vi, c'è sta vicendo oltre tra i pezzi pezzi o vengono attraverso la cittiva per il terremoto madonna batista madonna che ti sento l'anatico odio restate se stai se le mani le macchie 2 se la posso fare no no che quello che mi fa la cosa no 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 raggiungiamo ora ma chi sta per me ricicliente la buona rosa per me 14 14 14 si mamarando manca una domanda si si no 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 ragazzi è stata combattutissima contro di me ovviamente eh ragazzi 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 ognuno e che stava dietro di te salutatemi tutti c'è io lo madonna andavo cercando Battista proprio per il colpo finale madonna ma ragazzi ce l'avevo io a Battista ma sono solo io che ho la skin figa ah grazie eh allora adesso io chi sono eh io chi sono adesso lui ha la skin figa allora fa il figo davanti a tutti no no basta per concludere in bellezza andiamo a vedere cosa sto bloccato c'è proprio così ragazzi è un pochettino contento e disfai ok ragazzi la doppia tv è tutto bella ragazza ahahahahah ahahah 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 ecco ecco chiamo valerio ecco 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 c'è la ecco 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 la donna bocchino via via l'angolo centrale vai c'è un'altra parte di un'altra parte del mezzo alla parte che ti ha dato l'angolo sinistro che detto farda riguarda la gara del salato pizio con saluto ciao ciao era un salito un saluto intelligente per me ciao chi sei detto leggere ho sbagliato chiamato giocatore vabbè ragazzi al prossimo minigames spero che vi sia piaciuto qui ci sono un sacco di cose venite a visitare questo splendido server bella ragazzi e vedete pure i canali nostri come sempre non c'è nessuno in descrizione bella raga ridimi un bella 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 bobbiro anche la rai posti o poi ti chiami veramente bobbiro oddio fanno io so citato che è successo ma per me aiuto che succede hanno cancellato pezzi di merda ci trollano posto passo se c'è l'admin quasi quello che ci fa gli scherzi che si sta morendo 30 volte no 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 è ricardo non bravo sì però non va bene così è se non fa vogliamo far dire a quando dice la dobbiamo in servizio oh eh ma secondo me si ha fatto anche di pozzo sta cosa non ho fatto fucker spazio io non ricordo tu direi me tifo si può vedere dovrebbe essere no in tedesco ma non non capisco l'utilità o ma che facciamo allora se continuiamo così tutta giornata facciamo il video così ma si dai parliamo noi continuiamo a morire intanto l'hanno calciato quasi tutto no secondo me lo stanno griffando perché prima hanno scritto e c'era un griffo eh sì sì ma che cavolo io devo fare i mini case e chiudo nei server ma andate a fanbando non si può è il bello che c'è stata tutta questa parte ah l'hai registrato pure sì dai quello lo metti in una specie di fuori onda fuori onda va bene lo metti come fail e da blue fire è tutto bella ragazzi al prossimo episodio grazie a tutti grazie a tutti